Nuova settimana, nuovo appuntamento con tra le righe consigli di lettura. Ci troviamo anche oggi nella libreria Voce di Padre Pio a San Giovanni Rotondo e anche oggi per consigliarvi dei libri da tenere sul comodino, nello scaffale della vostra libreria. Libri che magari abbiamo, soprattutto su Padre Pio, già presentato anche in passato, che però rimangono davvero sempre degli evergreen, dei sempreverdi. Libri che si lasciano leggere sempre con grande piacere. E a proposito di libri che compongono un po' la bibliografia tradizionale, ecco, del Santo di Pietrelcina, vi segnalo questo firmato da Padre Ambrogio Giacomo Manno sul Calvario per Amore. Padre Giacomo ha un passato di insegnamento di discipline filosofiche, che ha accolto l'invito a scrivere questo libro diversi anni fa da Padre Gerardo di Flumeri. Approfittiamo anche per ricordare la figura, lo spessore di Padre Gerardo, che ha avuto un ruolo fondamentale nel processo di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio. In questo libro l'intento è quello di interrogare Padre Pio sui problemi dell'uomo del nostro tempo. Si parla di dolori, di miserie, di tragedie. Per avere da Padre Pio una parola illuminante. Leggo a pagina, verso il finale, pagina 162. Padre Pio ha operato e continua ad operare con questo esercito silenzioso e tenace, parliamo dei gruppi di preghiera, per riportare le anime nell'abbraccio col padre che tanto le ama. Ma trascureremmo un aspetto caratteristico dell'apostolato di Padre Pio, della sua carità senza limiti, del suo cuore aperto a tutti, se dimenticassimo le folle anonime che sono accorse da Padre Pio, folle di tutte le categorie, classi sociali, età e condizioni, per esporre i loro bisogni spirituali o materiali, le loro disgrazie, pene, tragedie individuali e familiari, per ricevere da lui lume, aiuto e conforto. E tutti Padre Pio accolti, per ognuno ha avuto la sua parola particolare, il consiglio opportuno, incoraggiamento, sostegno e nelle situazioni più tragiche e umanamente insostenibili, ha alzato la mano e ha indicato il crocifisso, esortando ad abbracciarsi alla croce, perché il dolore sarà sempre sulla terra, le tragedie saranno sempre in mezzo a noi. Le beatitudini evangeliche capovolgono il quadro dei valori del mondo secolarizzato e sull'esempio del Cristo crocifisso infondono luce, forza e coraggio nelle situazioni più tragiche e assurde, perché Cristo ha santificato il dolore. Padre Pio è sempre lì ad accogliere e ascoltare tutti. Parole davvero, come dire, che ci rinfrancano, soprattutto in questo particolare periodo storico che tutti quanti noi stiamo vivendo. Sul Calvario per amore, edizioni Padre Pio da Pietrelcina, firmato da Padre Ambrogio Giacomo Manno. Per la San Paolo, Paolo Kurtaz, teologo e cercatore di Dio, così come lui ama definirsi, firma questo libro, la nuova edizione di Cristiano Stanco, per rimettersi in gioco. E dà davvero delle indicazioni, come se fossero delle pillole di carburante, per ritrovare quell'entusiasmo che manca, perché scrive in quarta di copertina, non dare nulla per scontato, perché in fondo il cristianesimo ha solo a che fare con Gesù Cristo. Questo libro raccoglie la corrispondenza epistolare telematica via mail tra uno sportivo parroco di montagna e un imprenditore desideroso di approfondire la propria fede. L'autore ripropone così i fondamenti di una catechesi che si basa su Gesù. Gesù uomo perfetto, Gesù incarnazione di Dio, Gesù che ci rende più uomini. E nell'introduzione c'è una sorta di check-up su alcuni diffusi luoghi comuni sulla fede. E' interessante leggere come scrive Paolo Curtaz nella prefazione, è difficile parlare di Gesù e cristiani perché sanno già tutto, però è bello conoscere come questa corrispondenza tra lui e Giorgio sia poi finita in mano a migliaia di persone che hanno letto e leggeranno questo libro già alla seconda ristampa. Ho imparato a non dare nulla per scontato, scrive l'autore, perché in fondo il cristianesimo ha solo a che fare con Gesù Cristo. E' lui il nazareno ad essere il centro e il tormento, la gioia di milioni di uomini e donne che nei secoli affermano di averlo incontrato. Lui il cuore pulsante di ogni fede, di ogni azione pastorale, di ogni scelta compiuta in questi lunghissimi due millenni di annuncio, fatti di luci e ombre. Così è successo che la corrispondenza tra me e Giorgio alla fine, una volta data le stampe, coinvolgesse qualche decina di migliaia di persone. Ad oggi, questo mio primo libretto, pubblicato quasi casualmente grazie ad un altro amico turista che lavora presso un editore che aveva apprezzato questi appunti messi a disposizione in fondo alla Chiesa, è ancora venduto e apprezzato da chi si avvicina alla fede, da chi vuole fare un piccolo regalo, ma non troppo impegnativo, a qualche amico in crisi spirituale. In occasione dell'ennesima ristampa, in una nuova veste grafica, rileggo con piacere e disincantato quanto ho scritto ormai diversi anni fa. Qualche sfumatura forse oggi la farei togliere, qualche affermazione anche, ne aggiungerei delle altre, ma noto con gioia che quanto scrivevo allora, ancora la condivido totalmente, nonostante le onde che la barca della mia vita ha dovuto affrontare. Sono d'accordo con quanto ho scritto e sottoscrivo. E poi racconta anche che l'amico Giorgio, con cui ha avuto questo rapporto epistolare, nel frattempo ha fatto carriera e ha preso sul serio anche il fatto di mettere del Vangelo nelle scelte professionali che continua a fare quotidianamente. E dice l'autore che anche lui ha fatto un lungo percorso, non sempre lineare, che lo ha portato a fare delle scelte impegnative. Da questo primo titolo altri numerosi libri ne sono seguiti, tradotti in molte lingue. L'augurio dell'autore è quello di impegnarsi a raggiungere, nel profondo della propria anima, il volto di Cristo, inquietudine del mondo. Questo appunto il finale dell'autore Paolo Curtaz, che firma questo libro, Cristiano Stanco, per rimettersi in gioco, edito dalla San Paolo. Come sempre concludiamo con una bella storia, Dulcis in fundo, Bruno Ferrero, piccole storie per l'anima, Il canto del grillo. Questi libricini sono editi dalla LDC. La storia che vi leggo oggi si intitola Il monaco povero e il monaco ricco. In una città c'erano due monasteri. Uno era molto ricco, mentre l'altro era poverissimo. Un giorno, uno dei monaci poveri si presentò nel monastero dei ricchi per salutare un amico monaco che aveva là. Per un po' non ci vedremmo più, amico mio, disse il monaco povero. Ho deciso di partire per un lungo pellegrinaggio e visitare i cento grandi santuari. Accompagnami con la tua preghiera, perché dovrò avvalicare tante montagne e guadare fiumi pericolosi. Che cosa porti con te per un viaggio così lungo e rischioso? Chiese il monaco ricco. Solo una tazza per l'acqua e una ciotola per il riso, rispose il monaco povero. L'altro si meravigliò molto e lo guardò severamente. Tu semplifichi un po' troppo le cose, caro mio. Non bisogna essere così sventati e sprovveduti. Anch'io sto per partire per il pellegrinaggio e cento santuari, ma non partirò di certo finché non sarò sicuro di avere con me tutto quello che mi serve. Un anno dopo, il monaco povero tornò a casa e si affrettò a visitare l'amico ricco per raccontargli la grande e ricca esperienza spirituale che aveva potuto fare durante il pellegrinaggio. Il monaco ricco dimostrò solo un'ombra di disappunto quando dovette confessare. «Purtroppo io non sono ancora riuscito a terminare i miei preparativi». La morale che aggiunge Bruno Ferrero, la spiegazione. Un uomo sedeva sul mio stesso scompartimento in treno. Ad ogni stazione si alzava e guardava fuori dal finestrino ansiosamente, poi si risiedeva e sospirava dopo aver brontolato il nome della stazione. Dopo quattro o cinque stazioni, il vicino di posto gli chiese preoccupato «C'è qualcosa che non va? Mi sembra così terribilmente agitato». L'uomo lo guardò e rispose «Veramente avrei dovuto cambiare da un bel po' di tempo. Sto andando nella direzione sbagliata, ma sto così comodo e caldo qui?» Bene, anche qui non c'è bisogno di spiegazione. Davvero, queste storie di Bruno Ferrero sono balsamo per l'animo. Il canto del grillo, Bruno Ferrero, LDC per la collana, piccole storie per l'anima appunto. E con questa storia vi ringraziamo per essere stati con noi. Appuntamento, come sempre, dalla libreria Voce di Padre Pio di San Giovanni Rotondo alla prossima settimana. Se vorrete vedere questa puntata, ma anche le altre già andate in onda, vi rimando al nostro canale YouTube Padre Pio TV. Grazie a tutti.